Ma sì, che mi frega, mi vedo solo con gli amici. Tanto i ragazzi non si ammalano. A me di sicuro non capita. E se capita, è solo un'influenza. Lo sapete che quando ci da divertirsi, io ci sono sempre. Ma proteggiamo chi amiamo. Indossiamo la mascherina. Rispettiamo le regole. Siate negativi. È il mio augurio per voi.